Sono parole decise, quelle usate da Papa Francesco durante e subito dopo la preghiera mariana del Reggina Cieli, ricordando che la vita è sacra e inviolabile e non possiamo far tacere la voce della coscienza. Marilena Farinola. La vita è sacra e inviolabile e non possiamo far tacere la voce della coscienza. Sono parole decise quelle che il Papa usa dopo la preghiera mariana del Reggina Cieli, ribadendo che non si può far tacere la coscienza dinanzi alle azioni che offendono la vita, dinanzi ad una mentalità che la porta a considerare come un qualcosa da disporre a proprio piacere. Purtroppo, continua Papa Francesco, negli ultimi anni c'è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere e morire a nostro piacimento, come l'esito esclusivo di una scelta individuale. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio, essa è sempre sacra e inviolabile e non possiamo far tacere la voce della coscienza. Un pensiero anche alla settimana laudato sì, che si apre per ascoltare sempre più attentamente il grido della terra, che ci sprona ad agire insieme nel prenderci cura della casa comune. Il Papa è esortato a stringere i tempi, prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore. Celebriamo insieme la settimana laudato sì. Grazie.